musica 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 che cosa dove siamo? linda io stavo solo giocando a Huggy Wuggy al computer e si aspetta la luce? si non lo so che cosa è successo ma perchè siamo qua? no 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 io ero in camera mia tre secondi fa e io ero... non ero qui e perchè sono apparsa qui? te sei qualcosa? è sbaglio o è il pupazzo di Huggy Wuggy di Pocky Playtime non credo tu sbagli e c'è anche scritto qualcosa si narra che due ragazzi scomparirono nella fabbrica di giocattoli trova la stanza del fiore che senso? che fabbrica di giocattoli? ma che dice? linda facciamo così torniamo a casa e guardiamo se è tutto normale e guardiamo se è tutto normale mi sembra tutto uguale a me per ora si chi è che ha scritto quel cartello sulla mia porta? fabbrica di giocattoli ha ha divertenti chi c'è? non c'è nessuno ero qui per secondi fa impossibile non c'era scritto nulla sei sicura? linda ma che cos'è questa cosa? ma chi vuoi? linda che ci fa? chi vuoi? linda che ci fa? chi vuoi? è casa mia? ma che cosa ne so io e te eri qui finora è l'imparagno non lo vedi? cos'è un peluccio? che cos'è linda? non si muove non reagisce questo è come quello nel gioco non è possibile ero qui tre secondi palle finalmente com'è possibile che c'è tutta questa roba linda? io non ho fatto il problema io sono copiata nella casezza fuori là come te e ha anche una chiave no 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 un negozio di giocattoli linda che ci fa? non lo so io non ero qui come te linda non c'era questa roba non c'era non c'era niente com'è possibile? guarda se c'è qualcosa di che cosa è tutorial money? è una videocassetta forse sarà un messaggio non lo so tutorial money ti ricorda qualcosa? tutorial money queste cosa ti sembrano? mani? si? ok ma io sei sicura che ci fosse nulla? sono sicura io stavo giocando da ghi wagi nel computer e poi c'è anche il treno del gioco linda se tutto come nel gioco questo videocassetta ci farà vedere il tutorial di come si usa questo coso e allora guardiamola guardiamo se c'è qualcosa che dobbiamo sapere è blu come la videocassetta questo cos'è? una scatola? come funziona? così? si come le videocassette funziona così nel gioco in teoria è così giuro qualcuno mi sta facendo uno scherzo linda hai visto anche te il video della videocassetta? l'ho visto come te ha funzionato quindi questo l'ho utilizzato così come nel gioco così si ma e prima ho visto delle mani da poter aprire qua ok quindi blu manca la mano rossa manca la mano rossa dove è la mano rossa? aghi wagi si è spostato lì per quanto? come abbiamo fatto a non vederlo? e proprio non si riuscirlo dobbiamo andare via da questa stanza non credo si muova si muove solo quando vuole lui quindi blu magari è il colore di aghi wagi non va linda non va aspetta dopo allora noi siamo intrasi nella fabbrica dei giocattoli abbiamo visto giustare per le mani cosa manca? i colori del treno sono questi ok c'è blu rosso e giallo lì davvero blu rosso giallo ok proviamo ok guarda quante parti ci sono ok proviamo qua la prima ok ha fatto il suono ok si apre si apre si apre qua c'è il bagno ok ok oh mio dio che cosa? linda c'è ma è Leonardo in ogni doccia? che cosa ci fanno qua? ragazzi ragazzi che ci fate qui? non è che sono i ragazzi scomparsi nella lettera di nuovo linda che cosa ci fanno? come faccio a svegliarli? luce spenta luce spenta forse abbiamo appena acceso la luce aspetta ma non si accendono ok quindi luce spenta bisogna attivare la luce magari la corrente elettrica ok linda io provo andare di qua tu provo a cercare però questo darò a me perchè la non credo ci siano delle stante ok stai attento a loro guarda se si sveglia linda ok qua ci sono linda vieni qua è lo stesso giallo quindi Charlotte vieni qua guarda signorini linda dai forza vieni c'è una cosa importante ok linda linda Charlotte forse ha trovato come salvare linda vieni qua che sto pazzo linda dai forza vieni forza linda forza vieni Charlotte ha trovato una cosa dai giù vieni ha trovato la security linda c'è una cosa più importante linda 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 stai calma stai calma linda 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 um linda linda ok possiamo discutere no 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 capa ho trovato la finestra no oddio bottoni corrente elettrica cioè non è che serve per la security Linda diceva che la corrente l'avevo trovata nella security prima prima di morire ok dobbiamo riuscire ad arrivare laggiù senza che vi prenda anche i guaddi ok sarà un po' di pesa ok la giù è qua ok guaddi come sei ok 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 Bottoni, corrente elettrica, corrente elettrica, bottoni, corrente elettrica, ok, dovrebbero essere questi. Ne vogliamo pigiare. Proviamo magari lo so qua. Perfetto. Proviamo a premerli così. Ma? Che è successo? Perché sei messo? Non so cosa stia succedendo, ma esci. Perché? Charlotte, anche tu qui. Charlotte, che fai? Mi siete svegliati? Come state? Bene. Però perché te sei normale? Noi siamo messi. Venite qua, guardate cosa ho trovato. Aghiwaki ha ucciso Linda. È questo qui, Aghiwaki. È un mostro, è una persona? Non lo so, è un peluccio di un gioco. Poi vi spiego. L'ha fatto lui. Guardate qua, quante cose ci sono di lui. E che dobbiamo fare? Bisogna riuscire a trovare una stanza del fiore. Prima ho letto una lettera. E forse magari riusciamo a risolvere il problema. Se la troviamo. Va bene, va bene. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare un'altra stanza. Non lo so, però bisogna stare attenti. Aghiwaki potrebbe essere ovunque. Ok. Vai. Ma cos'è? Immagrazioni giocattoli. Forse è qua dove hanno fabbricato tutti i giocattoli di un negozio che c'è dall'altra parte. A casa mia. E quindi? Che ci facciamo in questa stanza? Eva, Eva, Eva. Sposta, guarda qui. Oddio, scelgo. Eva, dove fa? Corri, vieni. Muori, muori, ti apri. Ok. Dove ci rossi, devo fare qua? Ok, chiudi la porta, chiudi la porta. Oh no, aiuto. Sì, l'arrivo. Eva, vieni, forza. Ok, vai, forza. Uscite. Eva, forza. Esci, vieni, Eva. Esci, veloce. Prova, dai. Forza. No, ragazzi, mi ha preso. No, no, no. No, no, ragazzi, aiutatevi. Lasciala. No, aiuto. Ragazzi, ragazzi, venite a aiutarmi, mi prego. Ok, forza. Non ci sono più. È scomparsa sia Eva che anche i guardi. È rimasto qualcosa? C'è questo. Ok, torniamo nella stanza di prima. Dobbiamo riuscire a trovare la stanza del fiore subito. Ok. Bene, quindi. Cosa bisogna fare? Vabbè, scazzini di giocattoli. Forse bisogna fare un giocattolo? Proviamo? Nel gioco in teoria funziona, così. Ok. Va bene. Allora, facciamo computer. Forse c'è una videocassetta da qualche parte. Tu, ecco. Cosa c'è qua? Tutorial per fabbricazione di giocattoli. Ok, proviamo a metterlo qua dentro e vediamo se funziona e se parte qualche video. Prima ha funzionato con Gimba. Ok. Ok, quindi bisogna fare un giocattolo. Magari serve a qualcosa. Proviamo a prendere i pezzi. Qua c'è da cucini e cotoni. Ok. Forse così. Ok, parla, parla, questo lì dentro. Metto qua. Vai. Ok. Vai. In teoria nel video fa vedere che si apro lì. Ok, vediamo se è venuto. Fatto. Ma che figo. Ok. Ok, ok. Cosa ci dobbiamo fare con questo beluscio ora? In teoria dovrebbe essersi sbloccato qualcosa? Leonardo. È scesa dalla finestra. La mano rossa. Mancava la mano rossa, perfetto. Quindi adesso se la metto così, in teoria funziona. Prova ad attaccare. Ok. Perfetto, forza, andiamo. In teoria ci dovrebbe essere una porta di qua. Piano, piano. Oddio. Ok, Leonardo, corri, 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 corri. Forza. Vieni qua. In teoria si faccia così. Vai. Aspetta. Ok, avanti, prova. Tira lì in testa, tira lì in testa. Sali, sui, sui. Bisogna trovare la porta del piede, corri. È questa la stanza del fiore. Ok. Non si apre. Non si apre. Non si apre. Ma qui c'è una scapola. Inserire, c'è qualcosa. Prova. Prova, prova, metterlo dentro. Ok. E chi se fa? Ok, ha funzionato. Eva? Che c'è palla qui? a qui? Grazie a tutti